let's go butchers come avete già capito dal titolo voglio farvi vedere le mie impostazioni personali di gioco quelle audio quelle video quelle dei settaggi comunque della ps4 in modo che possiate avere quelli che sono i settaggi come i miei che sono comunque alcuni dei migliori oltre a questo come avete già visto ieri come avete saputo dalle varie news che sono state rilasciate in giro finalmente posso confermare dire che faccio parte dei killer fish sport una delle organizzazioni più grandi tedesche quindi non vedo l'ora di fare questa stagione con loro assieme agli all star che sono t1 torres battle king ma basta qui tanto vedete la braca dietro sbragata sul letto comunque bando alle ciance andiamo subito con il video quindi cambiamo visuale in questo caso e andiamo a vedere quelle che sono le impostazioni allora per prima cosa quelle dei comandi io non uso la visuale invertita utilizzo 4 sensibilità quella normale proprio media quella base del gioco a volte utilizzo 3 la utilizzavo più che altro per un training diciamo sull'attaccare e staccare la mira perché se è una sensibilità orizzontale molto lenta mi trovavo bene comunque a staccare e riattaccare la mira con 3 sia molta via automira però ovviamente si è molto lenti nei movimenti si è molto più precisi da lontano ma ovviamente da distanze ravvicinate non è il massimo quindi ho deciso di lasciare 4 ma il training che ho fatto mi è servito abbastanza utilizzo pure 4 per la sensibilità in questo caso verticale non utilizzo la riposizione al controller mi dà veramente fastidio mira assistita ovviamente sì mira assistita sì non poter potevano pure cambiare il nome in questo caso ma non l'hanno fatto schema comandi predefinito perché mi abbasso con cerchio schema levette predefinito questi sono i comandi base la sensibilità uso media perché utilizzando principalmente gli ar diciamo che mi serve una sensibilità che mi consente di avere tanta domira e un buon controllo da lontano ma passiamo alle impostazioni di grafica allora in questo caso la luminosità la tengo al massimo ma vi spiegherò fra poco il perché guarda ora però vedete comunque che la luminosità è al massimo l'indicatore del giocatore utilizzo abbreviato mi piace vedere da clan o cose lunghissime zona visibile non la posso cambiare ma l'avrei voluta veramente restringere sinceramente ma non posso farlo poi andiamo all'audio allora nell'audio utilizzo il volume generale 10 per quanto riguarda il volume avanzato c'è il volume della voce cioè quello dei personaggi 10 in modo da poter sentire dialoghi in battaglia se non li disattivano in modo da sentire magari call out che mi dicono dove stanno gli avversari fatti dai giocatori in game cioè dei personaggi volume della musica 4 perché sinceramente non mi frega niente di sentire la musica effetti ovviamente 10 filmati 10 vabbè ma non l'ho mai toccato pure perché ancora non ho iniziato la storia cosa che sinceramente dovrò fare prima o poi l'audio controller disattivato all'inizio non sapevo che si poteva disattivare da qui dal menu e stavo impazzendo mi dava un fastidio ogni volta rumori e piastrine che si attivano cose l'audio personalizzato perché utilizzo potenze abbassi non cuffie super compresso frequenze alto mix 3 arc perché mi piace molto il suono di molte armi con potenze abbassi a volte mi pare di sentire bene determinati rumori magari dei passi o quando qualcuno utilizza il boost perché sono rumori che sfruttano le frequenze basse audio di solito però avrei usato super crunch però mi pare che non faccia differenza l'unico problema che mi trovo con l'audio di black ops 3 è che mi pare che l'audio sia 2.1 praticamente destra e sinistra e tra l'altro se un mio compagno spare del lontano alla mia destra io sento il rumore alla mia destra vicino quindi è un vero problema comunque a parte il test dialoghi multigiocatore ovviamente sì sentite che roba comunque a parte i dialoghi multigiocatore che in questo caso li ho attivati sinceramente mi piace sentire all'inizio partita le battute che si fanno i giocatori tipo quando ci sta la macchina e lo sparro che li fa ma allora può parlare tipo cose del genere mi fanno molto ridere la musica multigiocatore disattivata istantaneamente perché veramente cioè da un fastidio sentire stiamo perdendo compagni parte tutta la musichina di sottofondo e magari voi vi dovete concentrare in cerchi e distruggi oltre a questo ora vi farò vedere perché utilizzavo la luminosità vi basta andare su impostazioni della playstation 4 andare su audio e schermo impostazioni uscita video e in questo caso la risoluzione lasciata in automatico al massimo settare 1080p l'intervallo rgp metterlo su completo e mettere l'uscita del colore su automatico uscita colore intenso perché l'intervallo rgb completo perché ora vi farò vedere guardate come cambia il colore al livello di gioco proprio sembra più povero meno colorato il mio consiglio è guardate come pare più povero il colore ok che la luminosità è alta però vi consente di avere un diciamo un contrasto migliore di vedere comunque quando ci sta un qualcosa davanti a un oggetto tipo un personaggio davanti a un muro su un oggetto eccetera eccetera io mi trovo molto bene così e sinceramente il gioco mi pare molto più bello e visivamente più carino da vedere allora oltre a questo vedo impostazioni di uscita audio diciamo audio priorità dovuto mettere pcm lineare ma non so perché non funziona a volte stream dolby ovviamente usare il dolby perché con le cuffie se utilizzate le astro anche voi e l'uscita audio ovviamente avete il dolby surround quindi il 5.1 e niente io siamo arrivati alla fine del video spero vi sia piaciuto spero che vi aiutino questi settaggi da inserire io vi saluto al prossimo video bitches let's go